benvenuti in questo tutorial vedremo adesso come poter gestire a livello grafico quella che è l'elaborazione di un libretto topografico abbiamo elaborato il nostro rilevo gps e come vedete appunto a livello grafico abbiamo questa rappresentazione con un punto topografico dove a cui all'interno vengono visualizzate appunto delle informazioni nome punto in particolar modo e quota allora questa procedura grafica può essere praticamente definita dal menu file le impostazioni stili punti topografici difatti qui io posso ho la libertà di poter andare a modificare quelle che sono le caratteristiche dei punti topografici per l'elaborazione quindi dal font dall'altezza del testo e inoltre posso scegliere cosa voglio far visualizzare all'interno dell'elaborazione ad esempio voglio far vedere solo il nome voglio cambiare anche la tipologia del del punto quindi andiamo a dare queste condizioni e caratteristiche voglio cambiare anche il colore oltre a poter può inserire quelle che sono le varie informazioni degli offset del testo dal punto topografico poi ci sono anche altre impostazioni legate alla simbologia della stazione cellulometrica delle basi cps dei punti di allineamento dei punti di inquadramento clicchiamo su conferma e procediamo a rielaborare il nostro libretto quindi andiamo a definire il nostro sistema di riferimento elabora libretto corrente qui ovviamente vado a eliminare tutto quello che era già presente in grafica e mi vado a rielaborare il mio libro e vedete qui è cambiato a livello caratteristiche quella che la grafica e la segmentazione del del punto topografico ovviamente c'è anche la possibilità di poter fare delle modifiche anche dopo l'elaborazione non è che sono costretto a rielaborare ogni volta il mio libretto e difatti adesso se io vado a selezionare ad esempio una parte di questi punti avrò praticamente la possibilità di avere un'anteprima delle proprietà comune dei punti topografici dove io posso indicare ad esempio innanzitutto la possibilità di inserire il nome più descrizione oppure andare a definire nome quota descrizione cioè e inoltre posso scegliere di andare a definire quelle che sono le varie informazioni del fondo o simbologia comune quindi ad esempio io voglio indicare un'altra tipologia di informazione e andiamo ad esempio a inserire ciocco posso ovviamente andare anche in tutte le proprietà e quindi andare a verificare quelle che sono le proprietà generali completi tutto il mio elaborato vedete qui la differenza vedete questo qui si è creato una differenza di informazioni e ne ha la possibilità ovviamente anche danno queste caratteristiche di poter fare anche delle selezioni rapide infatti io per esempio voglio andare a selezionare un punto dopo grafico che ha la simbologia fiocco faccio seleziona conferma e gli vado a cambiare adesso anche quello che il colore in questo modo ok ho la possibilità anche di dare questo tipo di caratterizzazione al mio punto topografico ovviamente essendo tutta una parte che viene gestita appunto dal livello di planimetria io posso andare integrare quelle che sono le elaborazioni legate al disegno vettoriale quindi linea polilinea cerchio alla sinistra abbiamo quindi quelle che sono anche le informazioni legate allo snap da poter utilizzare quindi intersezione vertice linea snap su punto topografico ad esempio se io devo andare a creare anche un layer specifico e dire per esempio raccordo ok e vado a dare un determinato colore quindi vado ad attivare quello che è lo snap sul layer la selezione sul layer quindi vado a fare polilinea io posso andarmi vedere lo snap si attiva in automatico mi permette quindi di andare a creare queste informazioni in grafica in modo da poter andare ad agganciare automaticamente su ogni singolo punto topografico quindi mi dà la possibilità anche di andare poi a integrare varie informazioni dal menu topografia ovviamente c'è la possibilità di estrapolare altre informazioni anche da entità cad oppure c'è la possibilità avendo dei punti topografici le funzioni punti il che mi permette di poter andare a a calcolare altri punti ad esempio vogliamo andare a creare un punto per il prolungamento un punto medio tra questi due punti possiamo e procediamo in questo modo andiamo a inserire quindi per selezionare il primo punto il secondo punto vedere se materializzato il punto qui 3000 chiodo ecco qui sono andato ad integrare un altro punto questi punti sono punti calcolati in grafica dove hanno tutte le si coordinate sia cartesiane che geografiche ben calcolate perché abbiamo definito quello che è un sistema di riferimento